Salve a tutti Mentre questo continua a parlare Noi siamo qua Un'altra partita Ancora in casa contro Atlanta Braves Abbiamo vinto la scorsa partita Dopo una fatica Di quelle abominevoli Ma veramente Abominevoli E abbiamo Di nuovo Da affrontare questi qua Allora Io rilancierei Strasburg Perché questi ho quelli forti E quindi Strasburg Strasburg Cerco di mettergli Mettere davanti come lanciatore Il migliore possibile Auto Faccio automatico Fai Auto Auto Ma tutto sto automatico Che va a fine Che non ho più Non ho lanciatori oggi Sono tutti stanchi Non avrò lanciatori Ne ho chiedo Cioè Cioè se questa è la situazione Io Non posso fare Se mi ricordo Perché Abbiamo fatto quella fatica A fare tre punti In dodici inning Nella scorsa partita Con tutti i lanciatori Quando quelli Tutti i lanciatori Invece Mi mancano Campa cavallo Comunque Strasburg L'unica Nostra reale Certezza In fase di rilancio O almeno Lo è Quasi Sempre stato Certo Il fatto che È un mio A sinistra E lui Lancia Al centro Mi preoccupa Un pochetto Però Vediamo Strasburg Sei un 98 Doverall Sei tipo Al massimo Sei tipo Il Messi Dei lanciatori Praticamente Non Dovrebbero Essere Non dovresti Concedere Una battuta Che sia una Non te lo vorrei dire Però Vabbè Strasburg Io Vabbè Sono un attimo Interdetto Da un po' di cose Vai Strasburg Strasburg Dai Strasburg Sei il 98 Doverall Sei il 98 Stodoverall Non te lo vorrei dire Strasburg Vabbè 3-1 Strasburg Ok Ah C'è un problema È evidente Che c'è un problema È evidente Che c'è un problema Strasburg Per Grazie a Del cielo Per Grazie a Del cielo Per Grazie a Del cielo Strasburg Che Hai deciso Rifare Aspetta La presa 0-1 Strasburg Per favore Oh Meno male Slider Fai Uno Due Oh Chiuso l'inning Con una bella doppia E Ale E Ale Ora Infatti 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 Secondo eliminato Dominic Mi fa un fuoricampo Così out and over Niente Ball Era bollo O meno Invece ho girato la mazzare Quindi strike Va bene Presa Va bene 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 Allora slider Ma che Io Io Vi ho Io Io Vi odio Io Vi odio Con il cuore Vi odio Quello Fa così Con il braccio La palla Gli passa Sopra Quell'altro Si dimmi Mi dispiace Avevo usato Strasburg Per questa partita Qua Che Chiaramente Perderemo Evidente Evidente La situazione Vabbè Secondo Io Qua Vamo sentite Io ho capito la situazione Ho capito la situazione Ho capito la situazione Ecco Mai voto Eeeh Warm up suero Bravo Tempo che si riscarda volta Entra volta 2 a 0 Avevo già l'uomo in prima base Certo Vabbè Eeeh Sono Sono alibito No non capisco Non capisco Non capisco Davvero non Non capisco Eeeh La curva Per favore Dai Mi lanciano meglio Quelli che Mi lanciano meglio Ma io Ma io Sono davvero senza parole Sono davvero Guarda dove la tira Guarda dove la tira Guarda dove Accidenti la tira Strasburg 6-98 6-98 Dove All Non sai centrare La zona di strike Sto al centro Sto mirando al centro Ce la fai Minchia Mamma mia Io Io Eh Vabbè Io Io Bello Ma è uscita fuori Sta eliminazione Al volo Da sta cosa Che Vabbè Io non so che dire Non so veramente Non so veramente Cosa dire ragazzi Non Nero due Io ho usato Utilizzando contro i loro quelli che sulla carta Sono i nostri due migliori lanciatori Prima Scherzer E poi questo Scherzer abbiamo vinto una partita Per miracolo al dodicesimo inning Con questo qua l'abbiamo Abbiamo al secondo inning e di fatto è già persa Con Carter Kiboum Alla battuta Va a volo La prende a volo quello lì a posto Primo eliminato Va bene Va bene signori Asdrubale Asdrubale alla battuta Presa Ma tanto Vabbò sentite Aspetta Aspetta io capisco Questa è persa Questa è persa Già la prossima Strasburger alla prossima rimane in panca Ma vo Bene Allora Manager Bullpen Bot Bot Divertiti Put in game Lasciamo veramente Lasciamo Questo è perso Questa è chiaramente una partita persa Chiaramente partita persa Quindi Oh voi vedete che questa ora lancia da dio Non concede niente E se succede questo Io Io veramente Io veramente rito fino a domani mattina Primo eliminato Tre lanci Tre strike Quello Concede Ball Cosa Fai lì Questo tre lanci Tre strike Io Guarda che lancia Vot Vot Porca puttana Vot 69 Doverall Questa 20 punti in meno Che dico 20 29 punti in meno Rispetto a A A Strasburg E sta lanciando molto meglio Sta lanciando molto meglio Io non la capisco ste cose Non le capisco Secondo eliminato Che alzo le mani Alzo le mani Io non Alzo le mani Io non capisco Io non 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 capisco Davvero non capisco Non Non Ho difficoltà a capire questa cosa Ho veramente Difficoltà a capire questa cosa Vai Vot 0-2 Vabbè ho mirato tutt'altra parte Ma vabbè Non è che successe qualcosa di diverso con Strasburg Costantemente Paolo Va bene Eeeh Qua Spigolo Vot Spigolo Vediamo se riesce a spigolare No Stava girando la mazza però Stava girando la mazza Eh Vabbè 1-2 Dai Sbrigati Che inferno di corsetta Ci vanno con la corsetta Cioè io 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 divento Io divento pazzo Per queste cose Però io divento veramente pazzo Vai Vot Vai che ce la faccio 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 Va bene Va bene fa niente Dai Dai Vot Oh Questo è 60 A 69 A 69 Sta lanciando meglio di Di Strasburg Che di overhaul A 98 Io Io ho Io ho Non so che dire Robles Robles Tocca a te Robles Battuta Una valida Va bene Bravo Victor Bravo Victor Eh Suzuki Suzuki Attenzione Suzuki Io però Vabbè Niente Va bene Suzuki Ah era bolle questa Porca miseria Vabbè 0-2 Fa niente Va bene Eh Anciosinare per non tirarla al muro Primo eliminato E poi Chi c'è Tu chi sei Vot Vabbè Eh A posto siamo La battuta Beh La prende Non è una valida È una valida E Robles Riesce ad arrivare Addirittura In terza base Ma bravo Vot E adesso Poi c'è Harrison Poi c'è Harrison Adesso Vai Josh Ma Do E mi fa Solo E si Do Allora Calma Ball Ok 1-1 Tattica Del porco Spino Presa Oh Signori Una valida E abbiamo fatto pure un punticino Abbiamo fatto pure un punticino E abbiamo di un altro nuovo in terza base Bravo Josh Ma bravo Josh Eh Mochi c'è Starling Castle E quello è commiato così No Era Ball Era Ball Era Ball Scusa Ball Scusa Era Ball Ok Calma Presa Eh Vabbè Niente Fatta una doppia Abbiamo accorciato Di un punto Vabbè Eh Ok Pai Pai vot Sereno Tranquillo Sereno A posto Primo eliminato Dai Su 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 Ok Fa La curva Mi spaventa Fa la curva Ma va Benissimo 0-1 Splitter Vai vot Bene Te ti sbrighi Oh Secondo eliminato E alè E alè Splitter Qua Splittala Vabbè Mi va tutt'altra parte Ma va benissimo Vai vot E Niente Vabbè Fuoricampo E A meno Questo è da un punto solo Vabbè E Oh L'ha concesso anche Strasburg Tanto Sta partita è persa Lo sappiamo Lo so io Lo sapete voi La partita È iniziata persa Per via Quello Fuoricampo Da due punti Ecco il nostro Tragico Tragica tendenza A non riuscire a far punti Noi Quindi Foul Foul Ecco Poi Dai Dai vot Va bene Stai tranquillo Stai tranquillo Splitter Così Oh Va bene Eliminato Va bene Eliminato Era il terzo Era il terzo Vabbè Loro hanno fatto un fuoricampo Va bene Fa niente Dominic Tocca a te Dominic Io 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 l'ho fatto Però vabbè Ok Vai Dominic Vabbè Vabbè Primo eliminato Primo eliminato Signori Primo eliminato Allora Carter Il key boom Ehm Ehm Vabbè Secondo eliminato Facile Proprio Ben fatto Vabbè Secondo eliminato Poi E a sdrubale Che stavolta Batte all'altro Lato Vabbè Ehm Niente Vabbè Signori Ehm Lo so io Sapete voi Intanto Quelli Sono tutti Qua Ripeto A prescindere dal fuoricampo Di prima Io c'ho voto E mi sta lanciando meglio Di Strasburg E non ha senso E non ha senso Non ha Assolutamente Senso Mi sta lanciando meglio Di Strasburg Votto Si ok Il fuoricampo Ma A parte quello Non ha concesso Più niente Votto a due Slider Dai Ah Tranquillo Prendendo al volo Primo eliminato E a lei Dai E a lei Poi Dai Votto Ma guardate Che lanci Che fa Votto Ma che lanci Fa Votto Strasburg Li tira tutti Tutti in ball Tutti lontani Cosa Già Ha concesso due Ha concesso In due Inning Ha concesso Due basi Due Due basi regalate In due Inning Lui è il terzo Due basi regalate Un fuoricampo Votto Votto invece niente Votto non concede niente Non concede niente Sì ok battuta Ma tanto Puppet Eliminato Non con Votto Non sta concedendo nulla E il 69 Dove roll Strasburg Fuoricampo Fuoricampo Basi regalate Quattro ball Cose L'inferno Invece niente Arriva Votto Tranquillo Sereno Proprio in tutta Ferenità Tutta serenità Tranquillo Primo strike In questa Pongero Due R1 Vai Tranquillo Proprio sereno Sereno Dove stai andando tu Oh Terzo eliminato Non sta concedendo più nulla Votto Votto Non sta concedendo più niente E ha 29 punti Dove roll in meno Non capisco Francamente Se qualcuno Non può spiegare Qualcuno che vede sto video Nei commenti Può spiegare Se sto sbagliando io Qualche cosa C'è Ditemelo Perché Non capisco Ma la battuta Quello Lo prende a volo Proprio sereno Vabbè Primo eliminato Vabbè Vittor Robles Presa E una valida Valida per Robles Valida per Robles Vabbè Vabbè Poi Poi Suzuki Suzuki 20 Suzuki Niente 0-1 Suzuki Suzuki E io Io premio la nevetta La mazza Ce l'hai di gomma Piuma Non lo so Allora Presa E ciao E ciao E fatta la doppia Chiudono l'inning E tanti saluti Vabbè E amen Pazienza Allora Lo slider qua Slider alla Slider alla Perfetto 0-1 Poi Qua Perché ti fermi Perché ti fermi Orca miseria Devi solo allungare Un braccio La prendi Cazzo Ti fermi Si ferma Doveva fare così La prendeva al volo Eliminato Così doveva Doveva allungare Un braccio A sinistra Odio ste Io le odio Io le odio Ste cose Mi odio Ste cose Io le odio Io le odio Le odio Dai che ce la vuoi fare Per favore Oh Grazie Oh Altro eliminato Secondo eliminato Dai Allora Fai bot E là Niente Va bene Slider Qua Comunque voto Io non voto Veramente Il miglior lanciatore Ora via Io non capisco Non sta concedendo Più niente Sta lanciando Molto meglio Di Strasburg A 29.9 roll In meno Come è possibile Qualcuno Io chiedo Qualcuno in chat In chat Scusate In chat Abitato con le live Del mio canale Twitch No no E no E no E non ce la vedai Ora Ora voto Magari Mi fa fuori campo Eh Mi Vabbè Non lo so Presa E' una valida Fa pure la valida A 69.9 roll Spiegatemi Questo Non lo capisco Lo chiedo Chiunque Nei commenti Scrivetemelo Spiegatemi Ste cose Non lo capisco Non lo capisco Non lo capisco Questo è Josh Harrison Vai Harrison Presa Vabbè Questa eliminazione Facile Proprio doppia Vabbè 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 Oh ci abbiamo provato Però Però vota Aveva fatto pure La valida Io Vabbè Ok Stalling Incastro Presa E E niente Terzo eliminato Io Noi abbiamo Cioè Ci rendiamo conto Abbiamo perso Stabattita Per Strasburg Noi siamo Noi siamo sotto E probabilmente Perderemo Questa partita Per colpa Dei primi due inning Lanciati con Strasburg Dove è successo Il delirio Punti Cose Cioè Io Per me Sta cosa è assurda Per favore Io Anche qua Sta cosa non ha senso Quello è dovuto venire Da casa sua Per prendere Sta palla qua Quando quello C'era quello L'avvicino Che doveva soltanto andare Un paio di metri indietro Questo poi non ha senso Non mi metto A cambiare I tasti Il cursore Perfetto Come altre volte Che cambio Cambia Non mi da quello giusto E nel frattempo La pallina cade Quindi piuttosto Ci vado con quello Che mi da Ma non ha Non ha nessunissimo senso Non ha veramente Nessunissimo senso Quello gli Palla di cade L'avvicino E deve andarci Quell'altro Praticamente è sceso Alla casa sua Per andarla a prendere Vabbè Allora slider Ok bot Dai che Ti sbrighi per favore Vabbè Cioè bot Sta cedendo Qualcosina Adesso Che è un po' stanco Ma adesso Adesso Che è stanco Adesso sta cedendo Neanche qualcosina Sta cedendo Eh Via Perché Perché Ti sei spostato Io divento pazzo Divento pazzo Doveva essere Una doppia eliminazione Doveva essere Una doppia eliminazione Facile Ma andate a fare Doveva essere Una doppia eliminazione Facile Non viene Quella ha fatto La danza La balla Del cigno Eh ragazzi Io Con Stasbook Sarebbe stato Peggio Io non Non capisco Io veramente Io non capisco Quando dico Non capisco Vuol dire Non capisco Non capisco Pronto Eh Non capisco Vabbè Che volta Spoverello Sta cedendo adesso Che è stanco Morto Anzi Piuttosto Appena Appena Possibile Allora Manager Bull No No Bullpen Oppa non me ne ho fatto un cazzo Eh Bullpen To Harper Warm up Warm up Appena Appena Prende il posto di Vought La Vought sta lanciando da Dio Quello è il discord Non è colpa di Vought Quello che è successo È colpa dei ricevitori Che Sono una roba Poi vabbè Il fuoricampo può capitare Uno ma Non sta concedendo niente Vought Mi sta lanciando meglio Vought Mi sta lanciando meglio Vought Ragazzi Sta concedendo qualcosa Ora Ma è stanco Morto Strasburg ha lanciato Due inning Fresco e riposato Ha concesso un fuoricampo Basi regalate Il bordello Il bordello Il delirio Ha concesso qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa È là che abbiamo perso la partita Non qua Non con questo ultimo fuoricampo È là che abbiamo perso la partita Allora Dominic Mi ha un po' Presa Poi Poi abbiamo anche una sfiga Che Dominic la prende Presa perfetta La palla finisce Esattamente Sui guantoni dell'uomo In prima base E a un certo punto Che devo sto fare Presa E vabbè Non lanciatore La palla A me quando è successo Bene la scorsa partita Che battuta Gli è passata Gli è passata qua Tipo sotto la scela Gli è passata Invece loro Gli torna addosso Giustamente la prende Giustamente la prende Io Boh Io non capisco Oh Ah Una valida La valida Di Asdrubale La valida Di Asdrubale La valida Di Asdrubale La valida Di Asdrubale Poi Zimmerman Vai Zimmerman E vabbè E niente Signori ci abbiamo provato Ci abbiamo provato anche a fare questa rimonta Cercare di ottenere un posto Nei playoff Evidente non ci arriviamo ragazzi Evidente non ci arriviamo E aspetta manager bullpen Toe, Harper Harper vai Vai tu Risparmiamo quelli migliori per una partita che possiamo vincere Vabbè Harper intanto ti presenti benissimo Devo dire Harper 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 Allora Buono Harper non hai fatto un lancio buono Ancora uno strike Oh grazie Harper Grazie di cuore Harper Meno male Allora Harper ancora Bene Bravo E ragazzi è andata Ragazzi è andata Non possiamo farci granché Signori E' andata così Che ho d'altronde Ah ma Eeeh Questi sono i brace E' una squadra Con i ricevitori che ricevono E con i battitori che battono Eeeh C'è 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 Più che è una squadra Con i ricevitori che ricevono E la differenza è tutta lì I miei ricevitori Non ricevono niente Harper Questa è una roba E' una roba Incredibile E' una roba Non lo so Harper Io Ma io Vabbè Te senti Lancia tu Tanto ormai Tanto ormai Sta partita è persa Lancia tu Chiudiamola Risparmiamo quelli buoni Per una partita Che possiamo vincere Dai Eeeh Vabbè Signori Eeeh Stato bello Ah Giocheremo questa stagione Fino alla fine Poi Poi si cambia Poi cambieremo il gioco Poi Si cambierà Sport Eeeh Cambierà gioco Insomma O ci abbiamo provato In me lo posso dire Ci abbiamo provato Ce l'ho messa tutta Quella era fuori alla base Io Sono Io non ho visto neanche dove ho suggerito Mi sono distratto Bene Harper Ok 01 Qui ce l'ha Va bene Bravo Ma Allora Harper Qua Va bene 1 2 Voglio solo chiudere sta partita al prima possibile Onestamente perché Cioè È la seconda puntata del registro di fila Onestamente 1 2 Oh Io sono sto inning A posto A posto Quanto siamo 7 a 1 Ok Attavo inning Dai Fra poco finisce Fra poco dovrebbe finire Questo Questa cosa Questo Questo strazio ragazzi Questo strazio Doppia Fili Come si chiama Di Di Robles Va bene E Poi Suzuki Suzuki Alla battuta Niente Allora Già Sterli Addirittura Va bene Presa Oh Un'altra valida Facciamo addirittura un punto 7 a 2 Rendiamo La sconfitta Un po' più Leggera Un po' più Così Conti No 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 Lascia sta Lascia sta Lascia sta Harper Fai quello che puoi Vedi un po' tu Non lo so Harper Ball Era ball Era ball Vabbè senti Calma Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Ball Sei scemo Sei scemo Sei scemo Sei un cretino Sei un cretino Suzuki Sei un cretino Cazzo vai Vabbè 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 Suzuki Vabbè Seconda eliminata Vabbè Suzuki Pia Vabbè Mo Harrison Josh Harrison Presa Vabbè Eliminazione facile A posto Finisce Ottavo inning Suzuki 26 di velocità Va Vabbè Vabbè Io Sono Sono un attimo Non Non lo so Non so che dirvi Ragazzi Allora Allora Dovevo soltanto Chiudere sta partita Prima possibile Io Mai Non li Non li Spreco Io Ho mai I giocatori Migliori Non li Spreco Magari La prossima Si spera Che Possano Tornare utili In qualche maniera Prendi al volo Poi farcela Primo eliminato Va bene Va bene Poi Di là Qualcuno Nel 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 Per carità Che vi interessa A voi Cercare A recuperare Sta partita No Potete Corri Andarla A prendere Secondo eliminato No Va bene Ragazzi Io Non le capisco Queste cose Non le capisco Non le capisco Non le capisco Qualcuno Veramente Nei commenti Mi dica Qualche cosa Conforto Mi dica Mi spieghi Delle cose Mi spieghi Perché Harper Con l'overall Nettamente Più basso Di tutti E quello Che lancia Meglio C'è Strasburg Ha concesso Il mondo Con l'overall O 98 Vot Con l'overall 69 Ha lanciato Da dio Io Non Spiegatevi Sta cosa Perché non La capisco Secondo eliminato Va bene Poi Sto lanciando Harper C'è Che sta Facendo Mediamente Schifo Tra l'altro Anche un po' Stanco Ma Anche Harper 73 Dove Roll Sta lanciando Meglio di Strasburg Anche Harper Stanco Sta lanciando Meglio di Strasburg Riposato E Harper Ha tipo 73 O 75 L'overall 73 O 75 L'overall Io Sono senza parole Vabbè Qualcuno ci può andare Per favore No Vabbè Guarda che Se ti brighi Per carità del cielo Ecco Meno male Questo Andò fuori campo Ok Strike 1 Poi Palla curva Qui Ah peccato Va bene Poi Va bene Strike 2 Poi Io direi Qui Eh vabbè Andate a fanculo E andate a fanculo Ti sbrighi No No Chi la stai dando A chi Ma che state facendo Tutti Io Non ho visto neanche dove Vabbè Lasciamo stare Per favore Per carità del cielo Voglio Soltanto chiudere Sto 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 Sta cosa Eh vabbè Harper Però ti prego Possiamo chiudere Harper Dai Allora Ok Ti sbrighi Perché ti appoggi con le mani Al muro Questa fai Perché dai il battiglieci Al muro Devi solo prendere Lanciare Basta Vabbè Guarda Eh vabbè Ragazzi Harper Per favore Dai Prendila Al volo Per favore A posto Dai Facciamo sto Turno di lancio Per favore Chiudiamo In battuta Chiudiamo Finiamo sta partita Basta così Eh Dai Primo eliminato Dai bravo A posto Eh no Io Non le Non le capisco Veramente Non le capisco Ste cose Non le capisco Eh vabbè Preta Bella Bella battuta Di Dominic Giustamente Dominic Voleva farsi Eliminare Però Gli hanno Concesso La grazia Per qualche Arcano motivo Non hanno Lanciato Direttamente Alla seconda Base Ce l'avevano Lì Vabbè Comunque Vabbè Carter Key Boom Battuta Vabbè Doppia Facile No Quello è rimasto Fermo Poteva andare In terza Vabbè Non per carità Io Vabbè Oramai Oramai Va a posto Fine Posto così Io Vi chiedo Sempre a voi Nei commenti Spiegatemi Perché Perché Quello Il lanciatore Mi lancia meglio E quello Con l'overall Più basso Io Vabbè Comunque Io direi Chiudere qua Questa Puntata Abbiamo capito Penso abbiamo capito Chiaramente Tutti quanti Che playoff Ci arriveremo mai Manco per sbaglio Detto questo Signori Sì sì Molto Per favore Possiamo Team not found Non voglio Foundare il team Voglio chiudere Sta puntata Detto questo Signori Molto semplicemente Un saluto A tutti quanti voi Alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti